cartoni animati per i più piccoli uffa che barba fare i compiti d'estate allora vediamo un po' tabelline mamma mia tabellina del 5 allora 5 per 1 5 5 per 2 10 5 per 3 15 5 per 4 20 5 per 5 25 farima 5 per 6 35 per 7 35 5 per 4 40 5 per 9 45 5 per 10 50 sì bene la so adesso anche quella del 6 6 per 1 6 6 per 2 12 6 per 3 18 6 per 4 a 24 farima anche questa bene 6 per 5 30 6 per 6 36 farima la so 6 per 7 42 6 per 8 48 farima allora è facile 48 6 per 9 50 6 per 9 50 54 6 per 10 60 uff meno male sì però basta studiare fa caldo voglio trovare qualcos'altro da fare cosa posso fare cosa posso fare mi è venuta l'idea sì mamma mamma che c'è beppa dimmi ho finito di fare i compiti brava tesoro che cosa si andrebbe di fare facciamo una torta insieme sì ottima idea dai vieni di sotto sì arrivo arrivo che bello fare una torta con la mia mamma sì me la merito proprio dopo tutto quello che ho studiato dopo tutto quello che ho studiato eccomi mamma oh bene allora hai studiato sì sì ho studiato tutta la tabellina del 5 la tabellina del 6 le so benissimo brava tesoro che torta ti andrebbe di fare una torta al cioccolato bene allora non puoi cucinare così no ti devi mettere il grembiule un cappellino davvero come una vera cuoca sì come una vera cuoca mi cambio subito allora ok allora sembri proprio una vera cuoca sono molto fiera di te peppa allora per la torta per la torta vediamo se in frigo c'è tutto mamma sì guarda ci servono le uova il burro la farina il cioccolato eh sì anche il cioccolato allora le uova ci sono prendiamo le uova il latte latte il burro il burro è lì il burro perfetto la farina il cacao dove sono oh quelli sono nella dispensa allora possiamo chiudere qua sì possiamo chiudere chiudiamo il frigo che con il caldo poi dopo si sciolgono tutte le cose ah mettiamoci al lavoro allora mamma allora peppa dobbiamo mischiare bene tutti gli ingredienti sì dimmi bene come devo fare allora per prima di cosa dobbiamo rompere le uova ok uova poi dobbiamo mettere lo zucchero oh giusto lo zucchero aspetta che lo prendo zucchero ok e poi farina e burro mischiamo tutto e il cioccolato hai ragione il cioccolato me ne stavo dimenticando eh no mamma è la parte più buona e il cioccolato oh bene adesso possiamo metterla in forno ecco qua intanto che aspettiamo mamma intanto che aspettiamo potremmo guardare un po' di tv che dici sì dai guardiamo oh hai messo il timer sì sì l'ho messo suonerà quando la torta è pronta allora bene andiamo a guardare un po' di tv mamma quanto manca porta pazienza peppa ci vogliono ancora dieci minuti oh sembra interminabile il tempo forza vieni a sederti qui vicino a me ok oh fammi un po' di coccole mamma ma sì sei proprio la mia piccolina eh eh sì oh penso che mi addormenterò mamma che succede è ora di andare a scuola oh no è già riniziato è già settembre ma no peppa è solo il timer la torta è pronta la torta è pronta ah sì andiamo 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 wow mamma che profumino un aspetto delizioso sì abbiamo fatto proprio un ottimo lavoro tesoro complimenti sarai una cuoca bravissima da grande adesso ce la mangiamo ce la mangiamo ma certo è proprio l'ora della merenda e vai visto? prima hai fatto i compiti e poi ci siamo divertiti a fare una bella torta insieme adesso ce la mangiamo sì che bello mamma